Ciao ragazzi, buon video, oggi vedete questo video, perché ragazzi? Abbiamo venuto con la Roma, un'azio Roma, che è una bella ragazza che ho fatto, che lascia tutte le descrizioni, sempre di andarci, andarci un'occhiata proprio, abbiamo venuto che a uno, ho fatto una ragazza una ragazza, è una bella, belle griglia, se non ho permesso, ragazzi ci siamo messi a andare, 3 a 1, abbiamo vinto, ragazzi è di un po' che sono portato avanti il canale, quindi questo è solo per voi, che ho i goi lunghi, e adesso faccio il pronostico, allora ragazzi, il pronostico, allora, per i grigli, vabbè, l'ho già detto, che ha fatto un gol meraviglioso, un grande per i grigli, che siamo andati a vedere il tuo video, c'è un grande, Diego non ha fatto un calcio, un'altra bella, non ho detto questo, ma la bella in attimo, sono fatto ragazzo, poi che faccio vedere in attimo, andiamo a vedere, allora, allora, Diego, ok, Diego va a messo, ma mi ha messo, eh, Diego eh, guardate, ok, ma mi ha messo, eh, perché, Diego ho proprio un battaglio, io, io ce lo sapevo, Leonardo, 5, 3, buc'è verona, eh, eh, poi, la cosa, fa vedere, i grigli, che ha fatto, ah, la Juve, ha visto, 1 a 1, che è la griglio, eh, Colomod, mi ha segnato, 3 a 1, da Roma, eccola qua, che posso vedere, su, qua, ok, e vabbè, ho detto, e, mo, io, ho finito, qua io, ho detto, io, ho detto, io, ho detto, io, vabbè, e, per le grigli, ha fatto il gollo, vabbè, e, però, io non ho fatto, cazzo, la vabbè, da, vabbè, va, colo, e, però, vabbè, da ghiaccio, vabbè, andate abbe, credo, vabbè, da, cazzo, Grazie a tutti.